Il primo maggio è il giorno in cui sarà sostanzialmente eliminato l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso. Ma in queste ore il governo ci sta ripensando anche a causa dell'elevato numero di contagi da Covid, che si continuano a registrare e quindi prima della scadenza del 30 aprile bisognerà decidere dove le mascherine continueranno ad essere obbligatorie. Ma secondo diverse indiscrezioni raccolte cresce il pressing per togliere le mascherine in classe sull'esempio di quanto sta accadendo in Europa, ultimo caso la Spagna. Sul punto però gli esperti non concordano e al momento prevale la linea della prudenza scelta anche dal ministro dell'istruzione, che allo stato attuale non vorrebbe cambiare nulla fino al termine delle lezioni previste per giugno. Beh, noi dobbiamo fare molta attenzione. Il personale scolastico si è dimostrato sicuramente partecipe di questa situazione, ha dato una grande disponibilità ad affrontare le emergenze, le situazioni critiche, però abbiamo bisogno di un quadro normativo di riferimento che sia chiaro. Invece si susseguono voci che certamente non aiutano, sia sul versante dei posti disponibili di personale, docente e ata per consentire alle scuole di poter chiudere l'anno scolastico in serenità, anche in una situazione emergenziale come quella attuale, sia sul versante e più in generale delle risorse che hanno a disposizione le scuole, che sono adesso in sofferenza. A questa situazione però ci si aggiunge anche quella dell'organico Covid nelle scuole, dove attualmente le supplenze del personale docente e ata assunto per far fronte all'emergenza epidemiologica sono prorogate fino al termine delle lezioni. E comunque non oltre il 15 giugno fanno eccezione le scuole dell'infanzia, in cui le attività didattiche termineranno il 30 giugno. Su questo fronte sembrerebbe che il governo procederà con una proroga anche per il prossimo anno scolastico. Noi stiamo insistendo perché l'organico Covid, che qui nella provincia di Terramo riguarda 600 persone, quindi un numero significativo, diventa un organico strutturale, perché noi veniamo da tagli e riduzioni che a partire dal 2008 hanno drasticamente ridotto la possibilità alle scuole di poter garantire un'offerta formativa di qualità. Quindi almeno questo personale che venga confermato in quello che noi chiamiamo organico di fatto, in modo tale che le scuole abbiano la possibilità, avendo questo personale, di ridurre il numero di alunni per classe, di programmare un'offerta formativa più ampia e di qualità.